one podcast le temperature che salgono i mari che si innalzano gli eventi meteo sempre più estremi ma anche i nuovi modi di generare energia di spostarsi di produrre e di consumare io sono luca fraioli e questo è pianeta green and blue un podcast di approfondimento settimanale dedicato alla terra ai cambiamenti climatici alle conseguenze che stanno avendo e alle soluzioni per scongiurarle pianeta green and blue un podcast di luca fraioli il ritorno del nucleare anche in italia mai come in questo periodo si discute della possibile riscoperta dell'energia atomica per contribuire a risolvere tutta una serie di problemi come per esempio ridurre la dipendenza del paese dai combustibili fossili quelli importati da nazioni poco affidabili quale si è dimostrata essere la russia per esempio o ridurre le emissioni di co2 per contrastare la crisi climatica in alto ma ogni volta che si parla di energia nucleare si innesca uno scontro tra pro e contro che rischia di confondere i cittadini e di diluire i fatti in una marea di opinioni di parte vogliamo allora provare a fare chiarezza in un'altra puntata precedente abbiamo dato voce a chi è favoreole chiedendo le ragioni del sì al nucleare ora è la volta dei contrari in questa puntata ospiteremo infatti gianni silvestrini direttore scientifico del chioto club gianni silvestrini benvenuto sul pianeta green and blue buongiorno a voi ecco lei qui rappresenta quella parte della società civile che si oppone in qualche modo alla riscoperta del nucleare in italia per la produzione di energia di energia elettrica in particolare riesce a dirci in un minuto perché no ma è molto semplice il nucleare negli ultimi 30 40 anni è dimostrato di avere tempi molto lunghi e di essere molto costoso qui parliamo delle esperienze che riguardano il mondo occidentale stati uniti europa e così via poi veniamo anche altri paesi come la cina che presenta una situazione molto interessante che potremmo anche approfondire e la realtà è che nel mondo in questo momento si pensiamo al 2023 ha visto una installazione di 510 mila megawatt di fotovoltaico e il nucleare che invece ha visto una riduzione perché ci sono stati installati degli impianti ma sono stati chiusi anche gli altri perché per la fine sono stati meno 2 mila megawatt in meno per il nucleare l'italia si è svegliata molto in ritardo e però ha installato l'anno scorso 6 mila megawatt di eolica solare e ha obiettivi ambiziosi 65 per cento dei rinnovabili al 2030 quindi pare che la nostra strada dovrebbe essere quella delle rinnovabili tuttavia in una intervista a repubblica proprio nel corso di cop 28 a dubai il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica pichetto frattina ha detto mai più grandi centrali nucleari in italia dando però il via libera dimostrando invece l'interesse del governo per altri tipi di impianti che sono i piccoli reattori modulari e i micro reattori che probabilmente avrebbero anche tempi e costi inferiori rispetto a quelli che lei citava delle grandi centrali occidentali ecco voi siete contrari anche a questo tipo di approccio no guardi il tema dei nuovi reattori modulari è un tema da guardare con attenzione noi siamo favori alla ricerca e all'innovazione resta il fatto che sono per adesso molti progetti che sono scritti sui libri sui fogli di carta sono dei modelli di simulazione uno dei progetti che più avanzato l'americano new scale voleva cominciare un percorso per installare in alaida o una centrale un gruppo di piccoli reattori però si è dovuto arrendere il fatto che i costi sono erano così alti che gli investitori sono scappati quindi diciamo la strada dei piccoli reattori è molto più complicata di quello che non sembri l'agenzia internazionale per l'energia atomica numeri alla mano nega però che il nucleare nel mondo sia in ritirata e cita tutta una serie di nuovi impianti effettivamente soprattutto in altre parti del mondo che non siano l'europa gli stati uniti ecco lei faceva prima accenno alla cinema altri paesi dimostrano che è fattibile anche in breve tempo gli emirati arabi uniti è l'esempio classico che viene fatto in 12 anni si sono dotati di tre reattori nucleari allacciati alla rete quindi che già immettono energia elettrica in rete perché questi esempi non vi convincono quelli di paesi che non appartengono al blocco occidentale ma guardi il nucleare nei prossimi 30 50 anni avrà un suo ruolo perché ci sono paesi come la francia che già ce l'ha la la russia la cina alcuni paesi arabi che peraltro parlando della russia cina e paesi arabi il controllo democratico è molto limitato continuano a farlo questo non c'è dubbio la domanda reale però è in un contesto che è rapidissima evoluzione perché il mondo in cui viviamo adesso vede un progresso incredibile delle fonti rinnovabili sistemi di accumulo interconnessioni ci si presenta uno scenario completamente diverso e quindi la domanda da farsi è sì le parti del mondo useranno il nucleare anche se devo dire che secondo l'agenzia internazionale dell'energia il contributo del nucleare al 2050 sarà nello scenario climatico sarà tra il 6 e l'8 per cento quindi sono abbastanza limitato una delle obiezioni che fanno una volta tanto i nuclearisti agli antinuclearisti è che l'italia ha rinunciato a produrre energia elettrica dal nucleare poi però acquista quella dei vicini francesi concentrali ad alcune centinaia di chilometri dai nostri confini ecco come si risponde a questa obiezione a questa incoerenza diciamo così ma guardi l'italia in effetti in decenni passati ha acquistato e acquista tutt'ora kilowattora dalla francia in particolare si utilizzava le ore notturne in cui c'era un eccesso di energia elettrica prodotta dal nucleare in francia le si utilizzava in italia per alimentare i sistemi di pompaggio del nord la cosa sta cambiando per esempio nel 2022 la francia ha avuto gravi problemi di siccità metà dei suoi reattori erano fermi e addirittura nel 2023 abbiamo esportato noi verso la francia quindi diciamo una situazione che in rapida evoluzione io penso che lo scenario nei prossimi decenni vedrà tutta l'europa con complessivamente una corsa verso le rinnovabili efficienza energetica interconnessioni e questo rende il contributo del nucleare francese nei prossimi anni sempre più ridotto la francia però sembra anche interessata ad una iniziativa made in italy c'è una startup che si chiama nucleo che appunto fa parte di quelle nuove tecnologie di reattori che avrebbe suscitato l'interesse anche il presidente macron rischiamo di arrivare in qualche modo ritardo anche quando le idee sono made in italy o la francia avendo già una tecnologia nucleare delle infrastrutture nucleari può permettersi di sperimentare prima di noi certe cose è ovvio che la francia ha un contesto è la prima della classe in qualche modo e ha un contesto che favorisce anche l'attività di ricerca e sperimentazione del nucleare quindi fatto che il nucleo sia andata lì è del tutto naturale noi non offriamo questi spazi io sono favorevole all'esperimentazione peraltro poi naturalmente bisogna vedere i risultati perché ripeto delle esperienze che sono state fatte nel mondo finora non hanno dato molti risultati vedremo vedremo quando ma vedremo all'inizio del prossimo decennio perché questi sono poi i tempi della sperimentazione dei piccoli di small modular reactors quindi all'inizio degli anni 30 vedremo se c'è qualcuno di queste soluzioni che ha avuto successo magari più o quella citata adesso e le valuteremo. Torniamo un attimo sulle rinnovabili lei ci ha spiegato come dal suo punto di vista l'europa accelererà sulle rinnovabili il fabbisogno energetico sarà coperto soprattutto da eolico solare ed altre forme di rinnovabili tuttavia spiegano i sostenitori del nucleare ci vuole qualcosa che stabilizze la rete che produca quel tot di energia necessaria a sostenere le produzioni industriali anche quando ci viene ripetuto non c'è a soddisfare i fabbisogni anche quando non c'è la fonte primaria rinnovabile ma questa è un'obiezione seria io ricordo che siamo 30 40 anni fa quando non ci occupano di queste cose si diceva che le rinnovabili più del 10 20 per cento della domanda elettrica non avrebbero potuto soddisfare e adesso l'anno scorso la germania ha fatto più del 50 per cento ed è un paese altamente industrializzato avere il discorso è che noi siamo in una fase di rapidissima evoluzione anche delle tecnologie non parlo solo delle tecnologie come le eolico offshore fotovoltaico innovativa e così via ma sistemi di accumulo di lunga durata e questa dà una risposta a questo reale problema cioè come fare per garantire il soddisfacimento della domanda per una settimana in cui non c'è solo 20 così via ecco per esempio germania california stanno facendo non solo sperimentazioni ma hanno attività di ricerca molto spinta su questo fronte perché dobbiamo e abbiamo anche delle aziende italiane su tre aziende italiane che lavorano sull'accumulo di media durata diciamo 10 15 ore e poi vedremo i giorni e settimane quindi diciamo che questo tema può essere il tema di una produzione rinnovabile intermittente che però sempre più prevedibile perché ci sono dei software che consentono di prevedere abbastanza fino a 10 giorni c'è un sistema di intelligenza artificiale di google che consente di dare risposte estremamente interessanti in tempi rapidi e quindi noi avremo interconnessioni tra vari paesi tra l'africa e l'europa io immagino che un periodo con grande potenza eolica noi avremo produzione del vento che dal nord d'europa rimane del nord scende verso il sud d'europa e viceversa il periodo in cui l'europa del sud italia e spagna in particolare con molta relazione solare producono energia solare che venga iniettata nei paesi d'europa quindi dobbiamo avere una visione che non è nazionale ma è europea e probabilmente anche sovranazionale e avremo l'idrogeno che può fornire un sistema di soluzione quindi avremo la possibilità con strumenti sofisticati di garantire meglio la produzione nei giorni successivi avremo sistemi di stoccaggio sempre più raffinati e sempre più di lungo termine avremo interconnessioni internazionali tutte queste soluzioni stanno cambiando totalmente il panorama energetico dei paesi industrializzati anche queste soluzioni però come ci spiega lei sono in evoluzione hanno bisogno di tempi per maturare mentre invece sappiamo che c'è una certa fretta nel risolvere il problema climatico nel ridurre le emissioni di co2 tanto che persino un attivista come Greta Thunberg si è detta favorevole al nucleare pur di ridurre le emissioni allora ecco le chiedo davvero in modo forse banale e brusco dovendo gettare dalla torre il nucleare o i combustibili fossili lei chi butterebbe giù cioè che cos'è peggio in questo momento per il pianeta ma guardi chiaramente buttare giù i combustibili fossili ma il problema è che il nucleare rischia parlo dell'Italia perché in altri paesi l'ho detto in altri paesi si svilupperà ma per l'Italia come per la Germania la Spagna in futuro è una falsa risposta nel senso che abbiamo a disposizione soluzioni che sono molto più efficienti meno costose e che consentono di avere di garantire occupazione in loco nei nostri paesi a contatto di quello che succede nel nucleare ricordiamo che piccola cosa che il nucleare per l'Europa e per gli Stati Uniti 40 50 per cento dipendiamo per gli approvvigionamenti dalla Russia l'embargo sul nucleare non è mai stato fatto è perché sennò centrali nucleari francesi americani avrebbero chiuso quindi c'è anche un problema di indipendenza energetica solo l'evento sono locali e sviluppiamo al massimo in una logica europea e magari anche sovranazionale anche con collegamenti con l'Africa. Finora abbiamo parlato di fissione quindi la produzione la reazione che ormai più o meno sappiamo padroneggiare e spacca gli atomi e produce energia naturalmente sappiamo che si lavora anche sulla fusione non si è ancora raggiunto il sacro graal della fusione capace di produrre energia in modo continuativo però ci sono annunci speranze startup finanziate anche da protagonisti dell'economia italiana qual è il suo punto di vista sulla fusione è quella la strada percorrere o è soltanto uno dei tasselli su cui fare ricerca ma non la vede come una prospettiva possibile? Ma guardi io della fusione ricordo che negli anni 90 si diceva fra 30 anni poi nel 2000 fra 30 anni nel 2010 fra 30 anni adesso nel 2020 si dice progetto ITER nel 2050 cioè fra 30 anni cioè è giusto fare ricerca però non ho molta fiducia su questa possibilità ringrazio Gianni Silvestrini direttore scientifico del Kyoto Club e agli ascoltatori do appuntamento alla prossima puntata di questo podcast il pianeta green and blue vi aspetta pianeta green and blue un podcast di luca fraioli a cura di ernesto manfrè una produzione one podcast